Oggi prepareremo dei tipici Yorkshire pudding inglesi Con mia mamma! E' vero! Tra gli ingredienti? Latte, uova e tolina! Si! Useremo un uova in testa, quindi 6 uova Qui possiamo vedere la quantità di uova che abbiamo usato Useremo la stessa identica quantità sia per la farina che per il latte Uova dentro! E dove? Il latte? La letterina! Yeah! Makes it to the top! Nel frattempo abbiamo messo in forno una teglia per muffin con dell'olio Ma per riscaldare a 200 gradi E poi mettiamo il composto L'olio deve essere bello caldo 20 minuti con la fiorna! Buon si affronta! Sono pronti! Guardate il tipico inglese! Guardate che poffi! Mia mamma ha aggiunto la Yorkshire pudding con la Sanderos! Buon appetito ragazzi!